Questa sera vado al bullying con delle mie amiche, Sonia, Eleonora e Daniela, un bacio chicche, e non ho il tempo di fare l'outfit per cui volevo semplicemente farvi vedere il trucco velocemente, potremmo chiamarlo tipo la faccia di questa sera invece che la faccia del giorno come fa una ragazza che si chiama Credorni Torella Comunque ho visto tipo un paio di video e lei fa spesso giornalmente vedere come si è truccata e spiega cosa si è messa appunto, facevo una cosa simile perché la trovo carina, utile e magari dà spunto a qualcuno per un trucco senza guardare un outfit completo o un make up tutorial completo Allora, il trucco di questa sera è fatto con ombretto in crema Style All Day di Essence quello viola, stavo cercando di inquadrare il meglio possibile l'occhio Poi, una matita viola della linea chicche di Kiko, quella glitterata, matita nera all'interno della rima interna e mascara azzurro di Kiko sopra e sotto Quindi praticamente viola e azzurro il tutto Sulle labbra ho messo una matita di Kiko rosata, della quale non ricordo il numero, però è una delle ultime che ho comprato, quindi se avete visto il video sapete qual è E sopra un gloss di Basic, non so il numero al momento, comunque una specie di violetto Carino, ok, faccio vedere forse appena appena come sono vestita Ok, vabbè a parte le ciabatte che ovviamente non ne esco con quelle, comunque ho un maglioncino a manica corta, un top nero al di sotto e un paio di jeans blu Scalpe da ginnastica e di corsa a giocare a bowling, anzi prima vado velocemente a casa di Sonia, la mia amica che sta mettendo su casa col fidanzato E vado a vedere le ultime cosine arrivate, i nuovi lavori fatti e poi scappiamo al bowling Ok, vi mando un bacione e niente, vi ringrazio come sempre dei commenti, siete i miei tesori Un bacio, chicche, vi voglio bene, ciao!